Collia fermato, riparte l'Antoniana, interviene Bonetti e ferma l'attacco dell'Antoniana, ancora lui Bonetti, farò laterale, Perina, palla per Collia, palla e mezzo, ribatte la difesa dell'Antoniana che cerca la ripartenza, subito fermato, Giotto, attenzione ancora l'attacco sulla fascia destra dell'Antoniana, palla e mezzo, in out, rimessa dal fondo. Zonca, parte Perina, ecco il pallone per lui, lo stop di Perina, si affaccia al limite, cerca il passaggio, è Collia, ribattuto, interviene il portiere dell'Antoniana. Curzi, ricorre la palla, lotta con un'attaccante dell'Antoniana, vediamo che è la meglio, farò laterale, ed è nostro, Baroni, Ghiotto, Ghiotto, Ferro, Ferro, cerca ancora un passaggio e Ghiotto, non lo trova, ancora Bonetti interviene, ferma l'azione d'attacco dell'Antoniana, Zonca, larga per Baroni, ha un po' di spazio, gioca dietro su Ghiotto, prova il tiro Ghiotto, fuori di poco, primo tiro in porta dei nostri, ancora 0 a 0. Sono le 15.30 il pomeriggio, 19 giugno, giornata fosa, Ghiotto, per Collia, fermato, Perina, ancora per Ghiotto, col destro, ed è gol, 1 a 0 per i nostri, Alessandro Ghiotto, piattone destro nell'angolino. Eh sì, va bene, Ghiotto, chiedi un commento, ecco anche il nostro grande esperto, abbiamo, Raiola che sta scappando perché non vuole parlare. Ricordiamo che in panchina abbiamo Federico, Raiola, non al meglio, Mr. Ieraci, ha tenuto riposo quest'oggi, in vista delle prossime partite. In vista delle prossime vacanze estive, che deve essere al meglio, ricordiamo Maldive, Miami, per Raiola quest'anno. Io farei, dopo partita, fare un'intervista a tutti i componenti della nostra squadra, per avere un po' di informazioni tecniche, come hanno visto i loro ragazzi giocare quest'anno. Per me è nuova. Vedi? Viste, Ieraci, richiama gli attaccanti a fare un passo indietro e far giocare la squadra avversaria. Cosa non fatta dal Monza, ricordiamo domenica scorsa, sul loro gol finale. Ghiotto, Ghiotto, salto nuovo, di sinistro, prima traversa di Ghiotto. Ho paura, ma proprio ho paura che giocheremo oggi solo sul loro metà campo. Eh, sì, Ieraci, poco lavoro per i difensori quest'oggi, però aspettiamo, la partita è lunga. Intanto Bonetti, Ghiotto, Ghiotto cerca Baroni, che si stava inserendo le spine, ingeglie di testa di difensore, fallo laterale. Ferro, Baroni, Ghiotto, a mette giù Ghiotto. Bonetti, 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 cerco un filtrante. Fermato, riparte Antoniana, ma interviene Perina e ferma tutto. Zonca, 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 cerca Baroni, pala un po' lunga, rimessa da fondo. Ah, fa anche quest'oggi, ancora Ghiotto che va il tiro, alta. Parte Antoniana da dietro, con lì al disturbo, con Ferro, pala per Zonca, e Zonca, para il portiere. Bravissima, è portata Antoniana, la blocca. Ancora Ghiotto per Baroni, che spinge su quella fascia destra, come non mai. Palla l'indietro per Gurzi, Gurzi, Ghiotto, Perina. Riparte Antoniana, attenzione, attenzione, con il numero 7, molto veloce, arriva sul fondo, palla e mezzo, pericolosa, c'è il loro numero 10 libero, in spaccata, arriva, para Ferrari. Prima azione pericolosa agli avversari, attenzione Yuri, a non trovarci scoperti. Baroni, Bonetti. Palla per il portiere Antoniana, che la smista a sinistra. Ferma, ferma Ferro, attenzione, bravo Fabiano, palla e mezzo, pericoloso, palla sul fondo, però. Salutiamo anche l'unico uomo in curva, che è Gianluca Baroni. Dov'è, dov'è, sì. Baroni, si è messo sulla fascia del figlio Jordan, a indicare la posizione e le azioni, come sempre. Buonetti, Perina, Perina per Ghiotto, Zonca, si sgancia ancora Baroni, ecco l'ho servito nello spazio, fermato. Interviene ancora Zonca, Fabiano, Ferro, pronto per il tiro, eccolo il tiro ed è il gol. 2-0 dei nostri, Ferro. Ma sì, oggi si divertono, buon allenamento, va bene anche così ogni tanto. Perina. Urzi, ripiega l'indietro su Ferrari. Ancora Gurzi, Antonio Gurzi, avanza, si fa vedere Ghiotto, ecco l'ho servito, si sgancia Perina e gli arriva la palla. Si ferma Perina, la gioca ancora su Ghiotto. Zonca, Zonca, Zonca va il tiro, attenzione, uh, palo di Zonca, con lì è ribattuta. Parra portiere. Rasoiata di Zonca. Palla sul palo, anticipo di Gurzi, Ghiotto, Ghiotto col destro, non va. Bonetti, si discute se è fuori o no, si fermano, fuori, deciso. Palla fuori. Un saluto anche al nostro portiere cecchinato, che ha preso giorni di ferie, che lui si parla di Cannes, addirittura, con St. Moritz in serata, grande papà Matteo, con la moglie Giada sempre, fida scudiera. Antonio Gurzi fa la peperina, cerca l'1-2, non è riuscito. Impressing Perina, va via il numero 6, ferma ancora Gurzi, riparte Perina, riprende il numero 6. Ancora Gurzi, ferma tutto, Ghiotto, Bonetti, rispinge, palla per Ferroa, e ripartiamo noi. Riparte Ferroa a mille. Riparte Ferroa, c'è spazio sulla sinistra, non visto, ancora su Jordan, sulla destra. Stringe Jordan, cerca Ferroa, Ferroa si gira, palla all'indietro per Ghiotto. Ghiotto, Zonca, Zonca va al tiro. Fuori, palla sul fondo. Palla lunga, Bonetti, interviene di coscia. Ghiotto, cerca Jordan ancora che si stava sganciando, Bonetti, fermato ancora lui, Bonetti, ancora Baroni, Baroni, Zonca, 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 Baroni, Baroni, va il tiro Baroni, e palla sul fondo. Sì, i ragazzi cercano il gol con insistenza. Parte l'Antoniana sulla loro destra, palla lungo linea, vediamo un po', il numero 16, cerca di andare via Gurzi, scivola Gurzi, palla al numero 7, attenzione, siamo un po' scoperti adesso, riprende Antonio, Gurzi, e riparte Perina, 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 per Collia, Collia, fermato. Fermato Ghiotto, attenzione, si sgomita, attenzione, fallo, fallo per l'Antoniana. Perina, Zonca, 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 Zonca per Baroni, avanza Baroni, stringe, ancora per Zonca, ancora Baroni, in mezzo per Ferro, fallo, 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 Ferro, stava andando via difensore, e messo giù, vabbè, punizione, punizione per i nostri. Sulla palla Zonca, ricordiamo, papà Zonca, che è all'80% di ricarica quest'oggi. No, va via Zonca, quindi tira Ferro, sulla palla, Jordan Baroni per Ferro, il tiro, il gol! 3-0, 3-0 di Ferro Fabiano, esulta, papà Angelo in tribuna, no, in gazebo, oggi in gazebo, papà Angelo. Ma c'è la mamma, anche c'è la mamma. Sì, posto privé, ricordiamo, il gazebo. Un posto da privé, neanche tribuna, neanche tribuna, ingazzebo direttamente lui. Baroni, calcio d'angolo. Stanno sbocciando o mi sbaglio? Vedo, vedo Gigio, Gigio, Di Gioia, già quinta. Calcio d'angolo, palla lunga per Perina. E la prende lui, la prende lui, Zonca, Zonca, Ghiotto, Ghiotto, fermato, attenzione Bonetti, rincorre la palla. Palla per Ferrari. Ferrari, nuovo look, mi dicono, per Ferrari, le donne stanno attenti, anche a queste cose. Speriamo che non è un effetto Samsono. Baroni, Baroni, palla per Ferro, anticipato, attenzione Gursi potrebbe ruovare la sua bomba proverbiale, eccola. Ferma però, Zonca, che la gira su Baroni. Palo, fuori gioco, fischiato fuori gioco. Fischia un fuori gioco l'allenatore. Un fuori gioco, Yuri. Così è deciso. Allora, ancora Bonetti, lascia a scorrere la palla, che va sul fondo. Ricordiamo che Bonetti era assente anche a lei. Ricordiamo Bonetti, che rientra dopo due settimane di vacanze. Si parla, si parla di vacanze, anche per lui, tropicali. Maurizius, Cuba, Barbados. Dov'è che è andato quello? Ai Seychelles anche. Attenzione, il tiro! Il tiro di Gursi, Antonio. Palla che sorvola e accarezza la traversa. Ecco qui, Ghiotto, si presenta al tiro. È già il gol, il gol di Alessandro Ghiotto. Doppietta per lui. 4-0. Esulta la mamma in tribuna, come non mai. È in preca anche. Non è contenta. Chiede al figlio un tiro di... Comunque, siamo arrivati a 4-0. Siamo arrivati anche quasi al ventesimo di questo primo tempo. Che oramai volge quasi al termine. Ma c'è ancora spazio per un'altra azione. Vediamo. Zonca, 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 zonca. A 75%, ma fischia l'arbitro. Primo tempo, 4-0 per noi. Adapo, amici, adapo.